Bella gente, è arrivata l'ora di farci un bel panino, una bella ciabattona. Come prima cosa la smollichiamo e mettiamo questa bella salsa di carciofi. Un bel carciofo soffritto con aglio, olio, sale, pepe, prezzemolo e un po' di formaggio grana. Secondo strato, degli ottimi sfilacci di cavallo, mettiamo solo un po' d'olio extravergine d'oliva. Terzo strato, delle scaglie di formaggio ubriaco, al vino rosso, un po' di maionese, lo chiudiamo, lo lasciamo riposare almeno un'oretta e poi lo addentiamo. Che dire? Buonissimo! Se ce la faccio aspetto un'ora, perché devono infregnarsi tutti i gusti.